Cos'è questo apparecchio? Questo è un e-reader, ossia un dispositivo sul quale si possono caricare e comodamente leggere e-book. Gli e-book sono libri in formato digitale. Il vantaggio è evidente, dal momento che su un apparecchio dell'ingombro di un singolo libro possiamo caricare moltissimi libri. E vi ricordo che a tal proposito Edizioni Grafe IT pubblica moltissimi libri in questo formato, compresa anche la collana i-tails diretta dal sottoscritto. A questo punto non mi resta che augurarvi buona lettura e, perché no, buone vacanze.